Dunque, lei si chiama? Deve accendermi il microfono, signor Spadaro. Saverio Spadaro Trapuzzi. Quindi, lei ha sentito un attimo qual è la situazione? Lei oggi qui viene sentito come testimone su altri fatti che non riguardano la sua responsabilità accertata con la sentenza, diciamo, irrevocabile per cui lei risulta essere stato condannato. Laddove, qui c'è il suo difensore, come ha avuto modo di ascoltare, su questi fatti lei è testimone, su queste circostanze che riguardano, ripeto, che non hanno rilievo sulla propria responsabilità. E' fermo restando che l'Avvocato sa che il 197 bis in ogni caso esclude che le dichiarazioni possano essere utilizzate contro di lei, con tutte le garanzie di legge. Ma sui fatti che non... e comunque in ogni caso lei può rispondere sempre, può ritenere di dire io comunque voglio rispondere. L'unica cosa sui fatti per i quali lei aveva negato la responsabilità nel suo processo, lei non è obbligato a rispondere. Su tutto il resto, lei è testimone. Quindi, sia pure con queste garanzie difensive e con l'assistenza del suo difensore, lei essendo testimone ha l'obbligo di dire la verità. Perché la legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti, commettono il reato di falsa testimonianza. Ripeto, con i limiti e le garanzie che abbiamo cercato di spiegare. Volevo leggere quella formula? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanti a mia conoscenza. Le sue generalità complete? Le generalità complete? Allora, Saverio Spadaro Tracuzzi, nato a Catanzaro il 20 giugno 1959. Attualmente residente? Attualmente residente a Osta, via Hotel de Monnet numero 20. Va bene, allora, prego Pubblico Ministero. Grazie. Il suo difensore l'ha chiamato capitano. Chiedo scusa, signor Presidente, perché non ho chiaro esattamente, diciamo così, i limiti che lei mi ha esposto a poca ansia, eccetera? Per quello c'è il suo difensore. È possibile che, prima che si proceda a questa escursione, possa consultarmi un attimo con il mio avvocato? No, perché lei comunque è un testimone in questo momento. Adesso c'è il suo avvocato qui, è per questo che è qui e eventualmente, se ci fosse qualche domanda... E questo comunque fermo restando che lei, fermo restando che lei comunque, come dire, un conto è non essere obbligato, ma lei può ritenere comunque di voler rispondere, cioè di dire io comunque voglio rispondere, voglio dire la mia su questo. Così come ho detto nel mio processo, cioè non essere obbligato vuol dire che non deve rispondere. Lei può scegliere comunque di dire la sua. Pubblico Ministero. Su difensore l'aveva chiamata capitano. Lei è capitano di qualcosa in questo periodo? Ero capitano dei Carabinieri. Quindi era capitano? Ero. Ecco, tanto per chiarire. Lei ha fatto quindi parte dell'arma dei Carabinieri? Sono stato, sì, appartenevo all'arma dei Carabinieri. In quale periodo ha fatto parte dell'arma dei Carabinieri? Cioè quando hai entrato? Rimbomba non sento bene. In quale periodo? Sono stato ufficiale dei Carabinieri? Sì, praticamente dall'anno 2000 al 2000, fino a quando sono stato congedato, me ne sono dato dall'arma dei Carabinieri. Quindi fino al 2018. Senta, ricorda dove ha prestato servizio in questo periodo? Ho fatto servizio dal 2000 al 2010, cioè fino al momento dell'arresto. Dico dove ha prestato servizio? Allora, ho prestato servizio da prima al reparto operativo dei Carabinieri, poi fino al 2003, dal 2000 al 2003. Dalla fine del 2003 alla fine del 2006 ero comandante del NOE di Reggio Calabria e dalla fine del 2006 fino all'arresto ero alla DIA di Reggio Calabria. Dopodiché, o quantomeno, alla DIA sono rimasto fino al settembre, se non va derata, settembre-ottobre 2010. E poi sono stato trasferito per motivi di opportunità, negli ultimi tre mesi circa, al battaglione Tuscania di Livorno. Senta, ma hai prestato servizio in Sicilia? In Sicilia? Sì, sono stato in Sicilia prima dell'anno 2000, cioè dal 91 al 2000, al settembre del 2000. E ero comandante di sezione del RIS di Messina. Quindi a Messina? Sì. E invece, altra domanda sempre sul suo servizio. Ha lavorato presso il porto di Gioia Tauro per un certo periodo? No, non in questo periodo. Ho lavorato a Gioia Tauro dal 2005 al, se non parlerà, al 2007 circa. Ed è esattamente il periodo esatto, non lo ricordo, ma comunque era quello, grosso modo. Ma non è che ho lavorato, cioè ho avuto modo di lavorare anche su accertamenti che mi venivano richiesti dall'Agenzia delle Dogane di Gioia Tauro. In qualità di, come comandante del NOE, quindi come reparto specializzato nell'ambito della tutela ambientale, ogni qualvolta l'Agenzia delle Dogane procedeva a fare un sequestro di presunte materie che potessero essere riconducibili a rifiuti speciali che sottostavano all'ex legge Ronchi, il decreto 152, chiamavano noi come specializzati e quindi procedevamo a confermare o a smentire la bontà dell'attività fatta dall'Agenzia delle Dogane. Cioè loro dicevano questo per noi è un rifiuto speciale, pericoloso o non pericoloso, che deve andare all'estero. È stato bloccato, vogliamo il vostro parello. E noi facevamo questo. Senta, lei ha conosciuto Aiello Giovanni, ex poliziotto originario di Montauro in provincia di Catanzaro. Assolutamente no, mai. Ricorda di aver mai visionato una foto, un'immagine di questo Aiello? Prego. Ha mai visto una foto? Mi è stata sottoposta durante l'interrogatorio svolto dal DNA in carcere a Santa Maria Capovetera. Aspetta, 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 aspetta. Chiedo scusa, prego. Allora diceva, durante questo interrogatorio, che credo che sia quello che noi abbiamo agli atti, le è stata fatta vedere la fotografia di una persona indicata come Aiello Giovanni? Mi è stata fatta vedere la fotografia di questa persona, ma io francamente non l'ho mai visto in vita mia questa persona. Senta, nel corso dell'interrogatorio, credo che sia questo, reso in data 19 ottobre del 2015, c'era anche il PM di Reggio Calabria. Dopo aver visionato la foto di questo Aiello Giovanni, di cui io lo stai chiedendo, lei ha dichiarato, è pagina 20 della trascrizione di questo verbale interrogatorio, ma chi l'ha visto mai un mostro simile? Ma chi l'ha visto mai? La mia domanda sono le sue dichiarazioni. Perché l'ha definito mostro? C'era un motivo particolare? Aveva mai sentito parlare di una persona? No, perché la prima cosa che mi è venuta da dire, come diciamo un'aggettivazione che mi è venuta da dire nei confronti di quella foto, era questa, cioè francamente era un viso piuttosto particolare. E quindi mi è venuta da dire, anche perché la domanda che mi poneva il procuratore era se io avessi mai dato un passaggio o qualcosa del genere a questa, e io ho detto guarda, un soggetto simile sicuramente non l'avrei mai fatto salire nella mia autovettura, al di là del fatto che la mia autovettura non l'ho mai utilizzata nel servizio. Quindi spontaneamente mi è venuto da dire in quella maniera. No, evidentemente mi ha colpito la circostanza perché siccome, adesso le farò le domande, diciamo questo personaggio veniva indicato come faccia da mostro, la sua espressione, questo è un mostro, oltre a confermare evidentemente questo tipo di, non lo so, immagine che poteva essere data di questa persona, però richiamava questa definizione. Allora la mia domanda è, ha mai sentito parlare di un personaggio legato ai servizi segreti, ex poliziotto, chiamato faccia da mostro? Assolutamente no. Secondo me, per come mi è venuto da dire a me di usare questo aggettivo, probabilmente chi lo ha utilizzato prima ha avuto la stessa impressione, perché francamente era un po' un viso particolare. Senta, lei ricorda, peraltro, altra circostanza che lei è stata contestata nel corso di quell'interrogatorio a cui ho fatto riferimento, di aver avuto la disponibilità di un'utenza telefonica svizzera, se vuole vedo anche il recapito che ho segnato, il numero che ho segnato. Allora guardi, l'utenza telefonica a cui si riferisce mi era stata data da un altro personaggio che fungeva da confidente, diciamo così, che a sua volta mi era stato presentato o quantomeno indicato da rappresentanti di forze di polizia, che operava nel campo di metalli e così via, insomma di recupero di questi rifiuti speciali. Questo individuo, questo soggetto, praticamente aveva avuto già in precedenza delle condanne e in ogni caso veniva utilizzato da altre forze di polizia come fonte confidenziale. Chi era questo personaggio? Può dire il nome, l'ha dichiarato? Si chiama Delfino Rocco. Nell'ambito di queste, diciamo così, di queste indagini che riguardavano sempre questi rifiuti speciali, eccetera, questo Delfino Rocco, nell'ambito di altre indagini che svolgeva la Dia in quel periodo, venne da noi utilizzato per, come, diciamo così, come confidente, in un'operazione, in un'indagine che prese il nome, se non vado errato, Profondo Rosso, che si trattava di riciclaggio di assegni o qualcosa del genere che coinvolgeva anche qualche banca, eccetera. Non l'ho svolta io personalmente, io collaboravo con altri colleghi presso la Dia, tra l'altro con me c'era anche un maresciallo che lavorava della finanza, il maresciallo Antonio Alia. E questo personaggio, al fine di dare delle informazioni su quella indagine, che poi non ebbe seguito, perché se non vado errato il GIP l'ha stoppata, ce l'ha mandato indietro, insomma, non ha mandato avanti le nostre ipotesi investigative e nell'ambito di quelle dichiarazioni che lui ogni tanto faceva, non voleva che lo contattassimo sul suo telefono. E quindi ci fornì questo telefono dove noi avevamo, diciamo così, il contatto diretto con lui e lui direttamente con noi. Questa era la funzione. Lei ricorda se questo Delfino, Rocco Delfino, aveva a sua volta un'utenza sempre svizzera, un'utenza telefonica svizzera con cui entrava in contatto con la sua? Sì, sì, sì. Cioè questa utenza è quella che ha dato a me, era un'utenza con scheda svizzera, un telefonino, non ricordo la marca, eccetera, che io tenevo tra l'altro alla via e che i miei colleghi lo sapevano. Quanto meno il maresciallo lì, Antonio, era lì, cioè voglio dire, lo sapeva che veniva contattato su questo telefono. Senta, due domande in ordine a questa cosa che ci ha detto. Prima di tutto in che periodo siamo, in quali anni siamo? Noi li abbiamo agli atti però è giusto chiederle. In quali anni si svolgono questi rapporti con Delfino? Se non vado errato siamo intorno al 2008 probabilmente, ma non vorrei sbagliarmi, credo sia il 2008 o il 2009 a cavallo dei due anni, non lo so, non ricordo esattamente. Infatti i rapporti tra gli utenzi, qui ha detto, per quanto emerge anche da questo interrogatorio risalgono al 2009-2010. Ecco, guardi, io non ricordo con esattezza la collocazione temporale. Un'ulteriore precisazione, il personaggio che le aveva presentato Delfino, chi era? Delfino? Delfino le fu presentato, le ha detto da un esponente delle polizie. Ma guardi, è stato indicato come, diciamo così, un personaggio sicuramente borderline che aveva avuto, credo, aveva avuto qualche condanna o comunque... Questo Delfino, no? Io mi riferisco all'esponente delle forze di polizia a cui ha fatto riferimento che l'ha mise in contatto con Delfino. No, non capisco... Chi è che l'ha mise in contatto con Delfino? Chi è che mi ha messo in contatto con Delfino? Guardi, a me il Delfino mi è stato indicato da un maresciallo del Ross, il cognome Vacca, maresciallo Vacca, che me lo suggerì qualora io potesse avere delle informazioni su quelle che erano, diciamo così, dei rifiuti particolari e speciali non legalmente smaltiti o comunque su informazioni di polizia che potessero riguardare anche altri fatti, visto che gravitava in un certo ambito, diciamo così, sociale. Senta, questo maresciallo Vacca, in quel periodo o successivamente, ha fatto parte dei servizi segreti, per quanto lei ne sa. Allora, per quanto io ne sa, il maresciallo Vacca era da prima al Ross e poi ho saputo, poi non l'ho visto più, ho saputo che era transitato nei servizi, però non so se questo corrisponde a verità, perché poi non ho avuto più contatti, non l'ho visto più. Senta, invece, ritornando a questo Delfino, lei sa se questo Delfino aveva contatti con esponenti o faceva parte dei servizi segreti come confidente, collaboratore, sa qualcosa al riguardo? No, guardi, no, questo no. Mentre sa di suoi collegamenti, parlo di Delfino, con cosche mafiosi operanti in Calabria? Non lo so, io ripeto, l'ho contattato esclusivamente per quello che poteva essere la mia attività e mi è stato indicato come una persona che tra l'altro aveva avuto modo di indicare al Ross di personaggi che poi, se non vado errato, erano personaggi forse anche qualche latitante, forse, che poi non so se il Ross lo ha tatturato o meno. Senta, nel corso di quell'interrogatorio come ho fatto prima riferimento, quello del 2015, lei rispetto a queste mie ultime domande aveva dato delle risposte diciamo parzialmente diverse. Se a pagina 68 della trascrizione del corso interrogatorio, a proposito della domanda se Delfino faceva parte di una cosca mafiosa, lei ha detto la cosca dei Molè, che forse le aveva detto proprio Vacca. Se ha detto così, sì, mi sono ricordato probabilmente, sì, lo confermo. E per quanto riguarda la domanda in ordine ai rapporti del Delfino con i servizi segreti, lei aveva risposto, mi riferisco a un segmento della trascrizione pagina 73, con queste parole un po' sì. Guardi, io non so perché posso aver detto un po' sì, però... Allora, nell'area del doganale, per quanto ne sappia, c'erano anche degli organismi stranieri, mi riferisco agli americani insomma, che avevano lì un punto di controllo segnatamente ad eventuali rifiuti radioattivi o qualcosa del genere. Se ho detto quello, probabilmente mi sono riferito a quello, ma francamente io non so se lui potesse avere contatti con esponenti dei servizi. Però se ho detto così, guardi dottore, non devo far altro che confermare quello che... No, no, a me interessa capire questo collegamento che lei ha appena fatto anche, di questa risposta un po' sì a proposito di Delfino, in relazione a questo, non lo so, punto di controllo che avevano gli americani nel porto di Gioia Tauro, dove? Controllo? Cioè chi? Gli americani? Lei ha pensato... No, gli americani erano lì come... sì, insomma, quello che mi è stato detto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, non perché io lo sapessi, mi è stato detto che lì c'era una sezione della... adesso non so esattamente chi fossero, se era della CIA, della DEA, non lo so chi fossero, però c'erano questi organismi, c'erano questi funzionari lì all'interno del porto, che operavano all'interno del porto, nell'interesse della loro nazione. Ho capito, e del resto così aveva risposto? Ma non è che era una cosa nascosta, avevano un ufficio, mi ricordo che stava al primo piano di una sorta di container, qualcosa del genere. Senta, tornando al discorso delle utenze svizzere da cui eravamo partiti, lì è in grado di spiegarci perché l'utenza in contatto con la sua, cioè quella di Rocco Delfino, a sua volta è risultata in contatto con un'altra utenza in uso a quello agliello a cui avevo fatto prima riferimento? No, non ho capito questi contatti, io ricevevo la telefonata dal Delfino che era disponibile per poterci dire qualcosa, segnatamente a quell'operazione di cui ho fatto cenno, cioè degli assegni che venivano in qualche maniera cambiati presso istituti bancari, eccetera. questo e non appena lui faceva la telefonata, prendevamo appuntamento e lo andavamo a sentire quello che lui ci diceva, punto, poi tutto il resto non so a che cosa si riferisce. Quindi lei non sa di contatti intercorsi tra l'utenza in uso a questo Delfino e altre utenze e noi sappiamo che una di queste era intestata nella disponibilità di Aiema, era per capire se lei poteva spiegarci questo tipo di correlazione. Senta, nel corso di una comunicazione avvenuta il 17 ottobre del 2015 all'interno del carcere militare di Santa Maria Capavedere, lei era intercettato, comunicazione intercorsa tra lei e la metta Arturo, ricorda di aver condiviso la direzione? Sì, sì. Nel corso di questa comunicazione in cui si parla sostanzialmente della sua posizione processuale e di quello che lei viene chiamato a riferire alle autorità e la metta, le dà dei consigli su come comportarsi, ecco questo non so se ricorda anche a distanza di anni l'oggetto della comunicazione, lo ricordano? Sì, sì, lo ricordo. Tenga presente che siamo in un contesto particolare, non è che siamo, voglio dire, al bar o a casa, quando uno ci si trova in quelle posizioni sicuramente cerca, come dire, appiglia, aiuto, consigli, da chi che sia, anche da chi ne sa meno di me, e meno dell'interessato e quindi è anche un parlare a mio avviso dettato dalla particolare circostanza. Ciao, però ci interessa capire alcune parole che sono state pronunciate, in particolare i più punti della comunicazione, se vuole che leggo nel dettaglio, lei dice ho paura che mi uccidono, che mi squagliano, usano espressioni di questo tipo. Di che cosa aveva paura, diciamo, per quanto riguarda la possibilità di ferire qualche circostanza all'autorità giudiziaria, parlare di qualcosa, mi dice ho paura che mi squagliano, che mi uccidono. Io adesso non ricordo quale fosse stata la domanda che mi è stata posta dalla Metta, non la ricordo. Si parla di quello che lei deve, che sarà chiamato a deporre davanti all'autorità giudiziaria, quello che le devono chiedere e quello che lei deve dichiarare. Se vuole gliela leggo tutta, ma la sostanza è questa. Se è riferita a qualcosa di particolare, giusto per capire che risposta posso aver dato e di cui non ricordo esattamente. Se la vuoi leggere, signor Fubbico, mi scusi. Sì, sì, certo. Mi riferisco alla conversazione che, peraltro, abbiamo già acquisito agli atti, e quella del 17 ottobre del 2015, all'interno del carcere, al minuto 10.58 della registrazione, questa è la verbale di descrizione del FIPART, c'è questa conversazione che sostanzialmente nella parte che ci interessa nasce da un foglio, da un qualcosa di cui lei rende noto alla Metta, e la Metta dice, ma che roba è? Interrogatorio, sembra una citazione a contatto. Ah, la citazione. E poi dice la Metta, minchia, ti hanno scritto direttamente Saveri, allora sai che ti dico, e poi si parte, allora sai che ti dico che ti vogliono fottere, che vogliono qualche informazione, si fa riferimento al fatto che lei viene chiamato, ecco, nella sostanza. Probabilmente per l'interrogatorio a cui dovevo essere. E lui in più punti dice sì, però, anche con espressioni che forse non è il caso di Fede, che sono un po' diciamo volgari, dice sì, mi vogliono squagliare, mi vogliono uccidere. Ricorda adesso la conversazione, grosso modo. Non la ricordo esattamente, sono passati degli anni, non la ricordo. Allora passo direttamente al punto che più mi interessa, perché il tenore della conversazione lo ricorda e la Corte potrà leggere perché abbiamo acquisito il verbale di trascrizione. A un certo punto la metta le dice, sempre a proposito di questo discorso, ho voluto fare questo riferimento per inquadrare il contesto, dice devi valutare la tua vita, ti passa per il cazzo degli altri, intanto tu stai pagando, hai fatto già cinque anni di carcere. Ovviamente tutte le valutazioni che devi fare, se tu non tocchi l'amico di Bruno, se tu non tocchi l'amico? di Bruno, Bruno. Vabbè, è a posto. Se quello si ora, quello che poi devi fare, attenzione, perché dopo, sai, ci sono queste persone che ti conoscono. Ovviamente tu domani esci di qua e potresti avere il problema. Guardi, non so chi... Finisco, finisco perché, diciamo, magari tuo figlio adesso, però questa, diciamo, valutazione, se tu nordischi galera, ti passa per il cazzo, voglio dire. Ti può fare, un'espressione che non leggo perché è volgare, tu puoi nominare una volta che Aiello, il generale dei Carabinieri, e lei risponde, che cazzo me ne fotte, anzi, anzi, magari. Guardi, dottore, io francamente non credo che, non è che posso smentire quello che c'è scritto là, ma non credo che possano essere state dette queste parole dalla Metta, visto che la Metta non conosceva niente della mia vita se non per avermi conosciuto e per avermi visto là dentro, di Bruno, non so a chi si potesse riferire, ma comunque ne ho avuto modo di parlare col signor procuratore, in quel mentre noi avevamo a Santa Maria Capovedere un maresciallo che si chiamava Bruno, e quando mi è stato contestato chi potesse essere Bruno o se avessi avuto conoscenza con qualcuno che si chiamasse Bruno, ha detto Bruno chi? Bruno è un maresciallo che aveva avuto dei problemi con la giustizia che stava lì. E la stessa cosa dica, sì, per quanto lei dice, quando è nominata Aiello mi pare, no? Certo. Aiello era un altro maresciallo dei Carabinieri che era detenuto lì, tra l'altro è di Palermo, ed era in quel mentre erano ospiti, chiamiamoli così, di Santa Maria Capovedere. Quindi i riferimenti a Bruno e a Aiello, come ho già avuto modo di dire al signor procuratore, erano riferiti a loro, però io non ricordo che la metta potesse dire... cioè se ha detto quelle parole, le ha dette sicuramente riferite ai due soggetti di cui ho parlato io, cioè un maresciallo Bruno e l'altro era Aiello, che stavano lì. Sicuramente non erano riferibili ai personaggi di cui il procuratore poi mi ha reso edotto durante l'interrogatorio. Quindi questa indicazione di Aiello sostanzialmente... Aiello è un maresciallo... Credo che fosse un maresciallo. Sì, se mi fa finire la domanda... Un maresciallo che prima era Santa Maria Capovedere, poi aveva avuto il trasferimento al carcere di Secondigliano a Napoli, per fatti, per reati diversi dai miei. Credo che sia ormai anche stato rimesso in libertà, quindi potete sicuramente fare il riscontro di chi sono questi personaggi. I riferimenti erano a loro. Un maresciallo che si chiamava Bruno, che era del nostro corso allievi sotto ufficiali, e l'Aiello era invece l'Aiello di Palermo, che stava lì a Santa Maria Capovedere. Niente altro. Poi, se vengono travisate le cose per cercare di far quadrare, diciamo così, determinate situazioni e circostanze, questo è un altro paio di maniche. Però sicuramente... Ma no, ma no, ma nessuno deve far quadrare circostanze. Noi abbiamo una risultanza. No, no, non mi riferisco a lei. E lei deve spiegarci quella sua posizione. Mi riferisco all'epoca, all'interrogatorio che ho subito. Cioè, perché i personaggi erano quelli. Cioè, i riferimenti erano quelli. Sì, sì, è stato chiarissimo. Siccome io le dico che in questo processo è evidente che l'accoppiamento Aiello, amico di Bruno, significa tutt'altro. Cioè, si parla di Aiello Giovanni e Bruno Contrada, io le devo chiedere se lei conosce... Per carità, dottore, ma lei giustamente mi fa questa domanda. Io mi riferisco all'interrogatorio di cui ho reso... Vabbè, lei esclude che si parli di Aiello e di Bruno Contrada. Assolutamente, ma nel modo più categorico. Va bene. Non ho altre domande, grazie. Grazie, pubblico ministero. Parti civili? Posso, Presidente? Grazie, Avvocato Redici. Buongiorno. Buongiorno. Lei aveva il grado di capitano? Sì. Fino al momento in cui ha cessato di essere militare dell'arma? Sì. Ora lei è in condizione di libertà? Sì. Ho scontato la mia pena. Mi scusi, non lo so. Ho scontato la mia pena. Sì, sì. Per intero. E svolge attività lavorativa? Come? Svolge attività lavorativa? In questo momento? Sì. No. Anche se, diciamo, per i titoli che ho, potrei fare qualche attività di consulenza, però non sto svolgendo, non sto svolgendo nulla. E lei non è vero? No, non lo so. In questo momento, francamente, io ho cercato di rimuovere, ho rimosso tutto ciò che c'è stato di negativo nella mia vicenda e nella mia vita. quindi, no, non lo so, non lo so, non so rispondere. E un'altra cosa, in quel momento, al carcere di Santa Maria Capo Avetere, fra i detenuti c'era un generale dei Carabinieri? C'era un? Generale dei Carabinieri. Generale dei Carabinieri? Non lo ricordo, sicuramente c'era un generale della finanza. No, no, generale dei Carabinieri. Dei Carabinieri non lo ricordo, no. Immagino che se lo ricorderebbe, essendo lei un graduato dell'arma. Certo, se fosse stato un generale l'avrei probabilmente ricordato, o quantomeno. Magari succedeva che venissero tratti in arresto delle persone, anche con gradi piuttosto elevati, ma che però dopo pochi giorni venivano rimessi in libertà e con i quali noi, quelli che erano definitivi o comunque con una carcerazione preventiva piuttosto lunga, non avevamo contatti fin quando queste persone non passavano poi… Lei lì ha avuto contatti con un generale dei Carabinieri detenuto? Generale dei Carabinieri? Guardi, io in questo momento non lo ricordo se ho avuto contatti. Va bene. Ma mi sfugge questo generale dei Carabinieri. Va bene. Un'altra cosa, questa intercettazione risale al 17 ottobre 2015. Lei a quella data, 17 ottobre 2015, da quanto tempo era detenuto? Da cinque anni. Perché, mi scusi se le chiedo, la data del suo arresto risale a? 18 dicembre 2010. Lei a Santa Maria Capoavetere da quanto tempo si trovava? Da quando? Questa intercettazione avviene a Santa Maria Capoavetere ottobre 2015. Mi trovavo lì esattamente dalla fine di dicembre 2010. Quindi quasi da subito fu portato lì? Cinque anni. Alla data che dice lei erano cinque anni, più o meno. E la metta era già lì o l'ho arrivata dopo? No, la metta venne dopo. Venne... non ricordo con esattezza, ma intorno al 2013, forse, 14. Non lo ricordo esattamente. La metta in che forza di polizia? Carabinieri. Sempre Carabinieri. Lei lo aveva conosciuto? Era un maresciallo. L'aveva conosciuto in precedenza? Guardi, ci siamo rivisti lì dopo quasi 30 anni perché siamo dello stesso corso sotto ufficiali. Quindi abbiamo fatto il corso insieme a Belletri, a Firenze. Poi le nostre strade si sono divise. Poi lui quando è arrivato lì a Santa Maria mi riconobbe. E lui dove aveva prestato servizio? Che lei sappia. Non lo so, comunque negli ultimi tempi so che era in Campania, a Napoli, non so. Ho capito. Un'altra precisazione. Lei ha spiegato che al porto di Gioia d'Auro lei per ragioni di servizio si recava o comunque è stato al centro delle sue attività fra il 2005 e il 2007. A Gioia d'Auro? Sì. Più o meno è quello il periodo, più o meno. Ecco, però siccome lei prima ha fatto riferimento al NOE, quando lei lavorava al NOE. Sì. Ora, io ho segnato che lei ha detto che alla fine del 2006 passò alla DIA. Alla fine del 2006 o il 2007. Guardi, la data precisa era settembre, ma non so se era il 2006 o il 2007. Allora, le faccio una domanda specifica, vediamo se ci può chiare dire. Lei al porto di Gioia d'Auro si è interessato solo mentre militava al NOE o anche mentre prestava servizio alla DIA? Io mi sono interessato di quelle che erano i trasporti trasfrontalieri in partenza dall'Italia, anche in transito da altri paesi, ma comunque che venivano sbarcati da alcune navi più piccole di cabotaggio per salire su quelle più grandi. E' in transito quindi con destinazione estero, prevalentemente mercati, cioè i paesi dell'estremo oriente. Sì, questo è l'oggetto. Io le avevo chiesto quale fosse l'ufficio nel quale lei prestava servizio. L'agenzia delle dogane, al di là del fatto che lì c'erano anche altre forze di polizia, c'era una compagnia della Guardia di Finanza con due ufficiali, c'era la polizia, c'erano i carabinieri, c'erano diverse caserme delle forze rappresentative delle forze dell'ordine, stavano all'interno dell'area doganale. Area doganale che funge da sorta di, come dire, di portofranco, insomma, c'erano i controlli, per entrare ci controllavano. Io venivo chiamato ogni qualvolta l'agenzia delle dogane, con i suoi funzionari, bloccava dei container contenenti rifiuti particolari. Io andavo lì da esperto con i miei collaboratori, attenzione, io comandavo i miei collaboratori, si andava lì e si stabiliva se quel sequestro, quindi roba già sequestrata, che aveva fatto l'agenzia delle dogane erano o meno dei rifiuti, diciamo così, illegali, trasportati illegalmente all'estero. Ok, ma lei andava lì in quanto ufficiale del Nore? Certo. Bene, lei poi a un certo punto fu trasferito dal Nore alla via. Sì. Nel periodo in cui era in servizio alla via, continuò a occuparsi di questioni attinenti al porto di Gioia d'Auto? No, guardi, francamente non me lo ricordo se posso aver fatto qualcosa che mi portava al porto di Gioia d'Auto, non lo ricordo, anche se come dia abbiamo avuto un'indagine sui rifiuti che ci portò anche in Sicilia, se è per questo. No, io non l'ho chiesto. Guardi, avvocato, non ricordo se sono andato nuovamente lì, ma in ogni caso erano situazioni e contesti di indagine diversa. Un'altra precisazione, quel Rocco Delfino che le consegnò quel apparecchio cellulare, di dove era? Lui? Sì. Di originario? Sì. Di là, di Gioia d'Auro. Proprio di Gioia d'Auro. Certo, se è nato lì, se è, non lo so, però la sua sede era lì, aveva un'azienda che faceva smaltimento di metalli, qualcosa del genere. Va bene, un'altra cosa, il maresciallo Vacca, lei ha detto a un certo punto transitò ai servizi. Sì, Massimo Vacca, sì. Sì, a me interesserebbe sapere quali servizi, se lo sa. Non lo so, lo so, lo so che si parlava che aveva avuto questo, si diceva ai servizi, non è stato il solo, perché anche un altro maresciallo che stava alla DIA, transitò ai servizi. Sarebbe Spano, sarebbe Spano, Spano, no, no. E chi era questo maresciallo? Non mi ricordo il cognome esatto, però era un maresciallo della DIA che ebbe un trasferimento ai servizi, non me lo ricordo il cognome, guarda. Va bene, e questo Vacca quindi ai servizi genericamente, lei non sa se è al SISDE o al SISMI, se è all'AISI o all'AISI? No, 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 non lo so, potrei sbagliare a dire uno o l'altro, non lo so. Ho capito, e senza lei a proposito di servizi ha avuto rapporti con un tale maresciallo Spano? No, non ricordo questo, guardi non lo ricordo, francamente non lo ricordo, se magari posso averlo conosciuto in qualche ambito, non lo so, ma non lo ricordo. Senta, se non ho capito bene, ma se non ho capito male, forse non vorrei confonderlo con lo Spano che ha riguardato la vicenda mia, però quello non era un maresciallo, magari mi confondo col cognome, non lo so. No, no, io non parlo dello Spano titolare del rimessaggio di Barche per intenderci, parlavo di un maresciallo. Una cosa, se non ho capito male, lei è originario di Catanzaro? No, sono nato a Catanzaro, però da piccolo sono cresciuto a Messina. Ha mai conosciuto un ispettore di polizia a nome Belcamino? A nome? Belcamino. No. 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 Un ispettore di polizia a nome Paolilli? Parolisi? Paolilli. Paolilli, no. Un'altra precisazione, lei ha ricordo dell'interrogatorio a cui fu sottoposto nel 2015, giusto? A quella data lei aveva mai avuto notizie anche di fonte pubblica a proposito di Giovanni Aiello inteso faccia da mostro? Assolutamente no, lo escludo, questa è un'invenzione di chi ha detto qualcosa del genere, io non lo conosco. No, 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 io non le ho chiesto se lei lo conosce come persona, le ho chiesto se alla data di quell'interrogatorio lei ne aveva mai sentito parlare. Anche dalla televisione, da organi di stampa, se avesse mai conosciuto il riferimento a questa persona, il nome è Giovanni Aiello. Signor Presidente, la mia affermazione, quando mi è stato mostrato il book fotografico con tutti i personaggi, è spuntato fuori questo qua e mi hanno detto la domanda appunto se... Ma chiedo, questo mostro, la facciata, non ricordo come ho detto esattamente, ma l'ha letto il pubblico ministero prima. Era proprio per questo, perché, guardi, mi creda, era... vabbè, non voglio assolutamente fare nessuna cosa, però era particolare. L'avvocato le ha chiesto se nel 2015, quando lei ha fatto l'interrogatorio, lei ha già detto io non lo conosco. Ne facciamo altro della sua risposta, la domanda era, ma comunque ne aveva sentito parlare anche da stampa per coinvolgimento di questo presunto coinvolgimento, infatti... Assolutamente no, signor Presidente. Va bene. Questo è proprio, guardi, una invenzione, è proprio fatta con i fiocchi, è un'invenzione. Chi è che dice qualcosa di diverso? Senta, a proposito dello Spanò, su cui le avevo fatto la domanda, ho trovato il passo dell'interrogatorio... Ma senta, scusi, mi scusi, è giusto anche con la... Parliamo di Francesco Spanò. Ecco, io appunto ho trovato il passo... Ok, signore Marciallo Francesco Spanò, è della logri di lui. Sì, è lei con questo, è lei con questo Spanò... Spanò che venne trasferito, cioè, so che andò ai servizi. Ma lei con questo Spanò aveva rapporti mentre Spanò era ai servizi? Sì, no, perché io l'ho conosciuto, se non va derato proprio alla DIA, però lui faceva parte di un'altra sezione, lì era suddivisa la sezione, adesso mi sovviene, sì, era di un'altra sezione, ma non abbiamo avuto modo di fare le stesse indagini, però, insomma, la sede era quella, ci vedevamo, lo vedevo, poi dove andò, non lo so, queste sono cose che non è che te la vengono a dire, oddio, si possono anche sapere, ma non era di mio interesse, non... Lei lo ha incontrato più quando lasciò la DIA? No, guardi, mi fa una domanda, veramente, parliamo di più di dieci anni fa, francamente non so se dopo che è andato ai servizi venne a salutarci qualche volta... Sì, ovviamente immagino che l'interesse di l'Avvocato non sia, se per caso, casualmente, quello lo capisco che lei può non ricordarlo, se lo ha presisto, ma sia avuto, diciamo, qualche motivo di rapporto di... No, no, che mi ricordi io no, ma proprio no, no. Senta, nel periodo in cui lei ha prestato servizio a Reggio Calabria, in quella città ha prestato servizio un questore a nome Vincenzo Speranza? Speranza? Speranza. L'ho sentito, ma non... non so se era quello il periodo... ho sentito questo cognome, ma non... Cioè, scusi, lei ha detto che è stato in servizio fra il 2000 e il 2010 a Reggio Calabria? Sì. Ha detto dal 2000 al 2003 al reparto operativo di Reggio Calabria, dal 2003 al 2006 al NOE di Reggio Calabria e dal 2006 al 2010 alla DIA di Reggio Calabria. O al 2007. O al 2007. E poi, fino al 2010 alla DIA di Reggio Calabria. Esatto. In questi anni di suo servizio, peraltro in reparti di indagine, non sapeva chi fosse il questore della sua città, della città in cui operava? Eh, forse questore Speranza, sì, forse sì. Ma guardi, io mi sto cercando di fare una... come dire, di ricordarmi questore Speranza, sì, ma non... io non lo conoscevo. Sicuramente non parlava... all'epoca probabilmente all'inizio ero ancora tenente, quindi sicuramente non... non parlava con me. Senta, quella utenza... no, non utenza, quel cellulare che le venne consegnato da Rocco Delfino, lei fino a quando lo mantenne? Fin quando l'ho mantenuto? Sì. Mi sembra che sia stato sequestrato al momento della testa. Quindi ce l'aveva al momento del sequestro e era ancora in suo possesso? Sì. Sì. Ho chiesto loro se potevano fornirmi in prestito un contatore Geiger per un carico di sequestrato di metalli che probabilmente potessero essere radiattivi. Siccome non avevo in dotazione il contatore Geiger o se non ricordo male non era idoneo, non funzionava, non mi ricordo, chiesi all'Agenzia delle Tocane, l'Agenzia delle Tocane ha detto guarda che quelli ce l'hanno e quindi ci prestarono questo contatore Geiger per andare a controllare. Bene. Ma lo prestarono all'Agenzia delle Tocane o lo prestarono a lei? No, lo prestarono a lei. Lei parlò con qualcuno di questi americani? Io andai con l'Agenzia delle Tocane, con i funzionari dell'Agenzia delle Tocane da loro perché non potevo muovermi liberamente. Sì, ma la cosa che posso... Adesso non ricordo se ce lo chiedero così. Aspetti un attimo, lei ha parlato mai con qualcuno di questi americani? Guardi, loro parlavano in inglese, io in inglese non lo parlo, quindi non potevo... E' mai stato presente mentre qualcuno dell'Agenzia delle Tocane parlava con qualcuno di questi americani? No, era soltanto una... è stata soltanto una cosa così veloce, sporadica. Avete un contatore Geiger, sì, poi due battute all'Americano fatte da lui in inglese, io non capivo. E basta, è fin da lì. E' un episodio talmente... Cioè, non lo so, piccolo, breve, circoscritto. E questo o questi americani che provvidero a procurarvi questo apparecchio, di quale ufficio facevano parte? Non ricordo chi fossero esattamente, ma dovrebbero essere... se non mi sbaglio c'era scritto custom nel loro logo. C'era scritto custom? Custom sta a significare Tocana, quindi non so se era un'Agenzia federale americana della Tocana o erano... Qualcuno li definiva appunto servizi, ma probabilmente questo termine veniva sdoganato un po' facilmente lì. Qualsiasi personaggio non era italiano, non era conosciuto, diceva che dei servizi. Questo era un modo un po' nostro di rappresentare così le cose. Non so se fossero servizi, se era il servizio di Tocana americano, non lo so. Certo è che loro avevano un punto di riferimento là dentro per controllare la merce che doveva andare in America. Va bene. Un'ultima cosa. Lei ha mai avuto periodi di detenzione in comune col dottor Bruno Contrada? Assolutamente no, non lo conosco. Non l'ha mai... Assolutamente no. Va bene. Nessun'altra domanda, Presidente. Grazie. Sì, grazie. Grazie.